Questa manifestazione si mantiene un punto di riferimento per gli sposi del territorio non solo? Non solo, da tutta la provincia, da tutta la regione, aspettiamo giovani coppie per accoglierle in questo splendido teatro dell'amore. Promo Berda 22 anni accoglie la nostra fiera degli sposi, abbiamo 136 espositori, in un momento di crisi diciamo che invece abbiamo un più 4% e il nostro fiore all'occhiello è la qualità e l'offerta espositiva, l'offerta merceologica che è sempre di altissimo livello. Abbiamo 30 settori merceologici rappresentati, dalla ristorazione alla musica alle bomboniere, ovviamente la fanno da padrone gli abiti, la cerimonia, gli abiti della sposa, quindi è una fiera sicuramente da visitare e aspettiamo tutte le giovani coppie per accompagnarle nel loro giorno più bello. Ecco parliamo di un evento innanzitutto ben strutturato. Sì, Bergamo Sposi 2020, 22esima edizione dedicato al mondo wedding, una bellissima manifestazione coronata da tutta una serie di interventi di flower design e di artisti del matrimonio. È presente una vasta offerta merceologica? Assolutamente sì, sono tantissime le offerte merceologiche, naturalmente in primis abiti da sposa, sposo e cerimonia, non mancano logicamente pagetti ed ammigelle. Abbiamo poi una bella presentazione di location e tutto quello che è il mondo del ricevimento, per cui dalle location storiche piuttosto che ristoranti tradizionali sul lago o addirittura location nella Franciacorta. Abbiamo una bella realtà anche in quel settore, non mancano il flower design, non mancano fioristi, fotografi, tutto quello che è partecipazioni, mondo bomboniera. Diciamo che a 360 gradi è quello che è il mondo del matrimonio e devo dire anche della casa, ci sono delle belle offerte anche per la casa. Sabato dalle 10 alle 19.30, Seltol Show con sei importanti wedding planner con le proprie spose, un appuntamento molto interessante per le future spose. Domenica apertura dalle 10 alle 19.30, dalle 10 a mezzogiorno circa un evento dedicato alla conciatura sposa, la sposa artistica di Abba, le quattro stagioni. Mentre dalle 14.30 alle 19.30 una serie di sfilate degli atelier presenti in fiera intervallati da momenti di musica, momenti di animazione, con naturalmente non può mancare il taglio della torta indicativamente verso le 18.30 a 19.00.